e bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo tornati qui per vedere la skin di serie icone praticamente la skin di serie icone arriverà a breve ci sarà il torneo domani, il 3 marzo ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare like e iscrivervi purtroppo le immagini non andranno insieme alla voce però vi spiegherò tutto e comunque qui in questo preciso momento vi sto facendo vedere le immagini della skin sappiamo appunto che questa skin è appunto di un lavoratore, cioè di un padre infatti il dorso decorativo sarà appunto il figlio versione pan di zenzero che vedrete nella seconda immagine che metterò ora cioè quindi questa è la skin, vabbè comunque l'immagine è un po' ammazzata e quindi poi c'è l'imm... cioè scusatemi c'è il bambino e come suo piccone decorativo c'è appunto questo martello e poi c'è un emote, cioè che non è integrato e si può usare un po' su tutte le skin però è diciamo una sua emote quella del lavoratore cioè quindi la posa a pranzo poi c'è anche un secondo stile di questa skin questa è la figura diciamo di lui mentre sta per azzannare sembra una pizzetta, in realtà dovrebbe essere tipo un dolce poi la andremo a vedere quando vi farò vedere praticamente la... la skin... cioè il balletto queste sono tutte foto relative al pacchetto e è praticamente come partecipare praticamente tutte le regioni, tutte le piattaforme possono partecipare la modalità di gioco del torneo praticamente si avrà solamente una pistola pura e a terra che sarà una nuova arma solo per questa modalità è una versione personalizzata della pistola fiocile se subisci danno dovrai ballare e usare le tue emote per sopravvivere poi la modalità sarà fatta in coppie e avrete 10 partite da completare in 3 ore poi ci sarà il sistema di punteggi e per avere la skin dovete andare dai 200 in su invece per avere tutto il resto praticamente dai 1800 in su altrimenti non riceverete nulla e comunque queste sono le regole della modalità molto semplice come modalità comunque volevo dirvi che sarà domani quindi il 3 marzo, ripeto infatti se voi andate su PlayStation praticamente vi dirà che il torneo sarà tra 24 ore praticamente e sarà disponibile alle 18 quindi alle 6 fino alle 9 e praticamente i migliori riusciranno a prendere questa skin ovviamente non preoccupatevi perché sarà disponibile nel negozio oggetti come al solito praticamente vabbè qui vi sto leggendo cioè io ve l'ho letta in modo più veloce perché questa cosa l'ho ripetuta 4 volte perché non riesco a doppiare il video però va bene tranquilli ragazzi lo sto facendo per voi quindi lasciate tanti like se volete un prossimo video e anche per supportarmi vi prego perché l'ho rifatto 3000 volte ok questi sono i punti per raggiungere la top cioè quanti punti vi danno praticamente quasi tutti uno comunque poi le eliminazioni vi dovrebbero darvene due però non sono sicura questa è l'emote ed è molto carina è molto simpatica ci sta molto con la skin ovviamente ci dovrà stare per forza perché se no non era una skin cioè non era un emote per questo tipo di skin vi faccio rivedere di nuovo quindi tutti i cosmetici e con queste non è Grazie a tutti.